La complessa attività di indagine svolta ha consentito di accendere riflettori su questa associazione criminale, che contando sull'apporto di dipendenti pubblici, pilotava la concessione di immobili dell'edilizia popolare. In particolare l'acquirente, una volta che si rivolgeva al suo talizio criminale, dapprima occupava abusivamente l'immobile, poi grazie ad alcune figure della pubblica amministrazione con i vendi, riusciva ad acquistarlo ad un prezzo più basso rispetto al reale valore di mercato.